poi la c'è il lavoro a centrare ma sei già casa non tenevi più da giocare è carina la nuova mappa un po caotica a seconda partita no terza partita che facciamo siamo attaccato da poco anche noi già come si è stufato la seconda partita da 5 12 ho finito poi 16 14 cosa è successo ma che roba qual carro ma quasi fatto appena ricorda vale porco zio carro t'ho detto che mi faceva o dio cane è riuscito a farmi è sempre da dietro ovviamente quando tu scappi ti sparano da dietro è preso pass giacomo no perché ha spaccato tutti i soldi che è quello che hai già Ok Ok No No Opla Non devi tanto andare in giro come un cretino No è un po' abbastanza da E devi Cioè andare in giro ma stare Attaccato ai muri Ecco Adesso sono 6-1 Giacomo Però proprio Il giro è di 5 5-9 Sparaz che dice che le armi sono diverse E a me sembra che spara come prima Vengono entrare o no? Un call Ah se no esco dai Lasciamo una partita Aspetta Abbandona partita Fai l'ultima Giacomo o no? No Vai dormire Ma che domani ti devo alzare questo Ma si sto leggendo una cosa qua Centro la Sparaz C'è? Sono molto esposizione Mi piace la mappa nuova Comunque Hai visto Ho postato Forse quale roba Che fanno il torneo competitivo E fanno giocare a Counter Strike Hanno messo a tutti Monitor Full HD 360 Hz Con le 40-80 Super E Ryzen 1008 X3D Davano loro l'app Ti porti la tastiera E mouse tuoi Monitor tutti uguali Tutti Full HD Non 2K Ma capite Per tutto Counter Strike È una 4080 Sì Per arrivare a 360 Air Per avere L'attenza al minimo E Full HD No E' in America E stabilite un fronte E poi scacciate gli americani Vedi ti pagano Per fare i tornei Dici vabbè Vado a prendere un torneo Mi piace Mi porta anche a casa qualcosa Sì Beh Non lì c'è Mi ha fatto una specializzazione diversa Sennò poi Ci saranno i draghi Ma che cazzo è Il furgone Non li puoi più schiacciare Ma che che puttanata Iniziamo l'assalto Sennò fatto di titanio Sennò fatto di titanio Le porte americane Controllano il settore Alta A casa sì Un colpo di cannone Non gli ho fatto un cazzo Ovunque hai notato Che ti riguardi Visto qua Sì Ma ho capito Ma A casa una cannonata Non l'ho neanche Va va Guarda Guarda Boh Porco Dio Uscito sparando Mi ha preso a me Cominciata già bene 0-1 Ancora lì dietro Guarda 0-2 Alla schiena Questa qua Non ne frega un cazzo Della bandiera Lì nella casa Anche spari di qui Alla schiena Guarda Ma bisogna fare così Non vado Metto qui C'è già gente Che ci spara La schiena Ma porco Dio Siamo nati Guarda Di nuovo la schiena E2 0-2 Lo stesso tipo Di prima 4-0 Lui è Mi ha ucciso Due volte a me Guarda Sono oltre la bandiera Non gliene frega un cazzo Guarda Guarda 0-3 Sono Luca E dove sono Nato Terza volta Ucciso la schiena Ci sparano Dalla nostra base Dai E1 Eh la madonna Aiuto Sto morendo Boh Persa Oh Buona fortuna Gli americani prenderanno tutti i settori Stiamo attaccando Ecco uno Eccolo Quando carichi arriva qualcuno Ma Non devo più caricare Devo portare il vizio di caricare Ma guarda Porco mio Ho riuscito a farmi Dio porco Qua nascosto 0-4 Gli ho girato attorno tre volte E qui nascosto dietro la cassa Dio porco 0-4 0-4 0-4 Dio porco Come prima È cominciata la partita Dove? Ma che cazzo Ne so Ho girato tre ore Dio porco Per poi farmi ammassare Da dietro Ma che due coglioni Ma c'è sempre qualcuno Che ti guarda Ma che là Qual è la situazione? Siamo lenti a conquistare obiettivi Gli americani avanzano rapidamente E qua Eh era già lì che mi puntava Dio Guarda che puntava a te Eh Stiamo attingendo alle risorse Ma non ce le abbiamo Ora le nostre truppe Controllano il settore Ecco Devo ricaricare Ah è 1-4 Cominciata bene la partita Chiamateci in casa Di bisogno Con la loro attenzione Con la loro attenzione Io ovviamente non gli ho fatto un cazzo Dove andiamo Charlie Luca Problema è riuscire ad avanzare Guarda porco Dio Sono tutti qua Che cambrano A nulla Non voglio neanche che mi reali Non mi riuscire ad avanzare E' un'altra E' un'altra E' un'altra Eh dai, non so se uscirò o no Ma sì, porco dio, mi ha saltato in testa Bah, di tanto qua i colpi, regista quel cazzo che vuole lui Niente, porco dio, davanti, dietro, sopra, sotto Lasciamo in delta, dai, lasci lì, mi sono rotto il cazzo Sì, ma registra i colpi e cazzo Carro dietro un muro ma mi ha dato morto No, è peggioro, prima non lo facevo E' da uno, è sotto assedio Sono nato col carro dietro Ora spengo tutto Bah, bah, e mi spara e mi segue anche col carro Ok, porco dio, ma Eccolo, la madonna troia Eccolo là Ehm, eh bravo cretino Vengato Alla schiena Ma no, ma perché andiamo in giro, Luca? No, non sono andato in giro, è appena andato Mettiamo in una casa Ci sta sparando quel coglione Mi ha appena ammazzato dalla casa lì Mettiamoci in una casa Facciamo tutta la partita dalla casa Come fanno loro E' inutile fare i coglioni E' andare in giro Sarma un cazzo Interferenza in arrivo Siamo gli ui circolini che vanno in giro Guarda dio, porco Dalla casa di nuovo Ma tocca a me Si, si, noi scemi che ci muoviamo Anche nella casa mi ha fatto Ah, mi porco giro Ah, no, ci tirano su una volta, mamma mia Ah, arriva, arriva Ehm, meglio tardi che va Un bel elicottero con un pescaccio Un bel elicottero con un pescaccio Guarda, ma fatto Madonna puttana la casa Devi giocare così E che ti muovi a fare Tutto a terra Blochiamo il nemico Faccio più, fretta che posso Frutta l'adrenalina Guarda, va, 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 va Ok, arriva, 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 arriva Ma c'è i colpi, non registra i colpi Oh, hanno modificato qualcosa Mica, non c'abbiamo la bandiera Due ne abbiamo Oddio, che resta Non entrano i colpi Sembra che non li registra Va, va Faccio No, a me girava bene No, sembra Ma ogni tanto non lo prendi Sembra che non lo prendi Continuo a impegnar Ma ogni tanto Eh, porco Dio Che adesso? Guarda, porco Dio Mi è venuto a prendere Mentre ricaricavo Ma la madonna troia 38 E questo qua Dio cane Appena cominciata la partita Uccidi tutti lui Sono tutti nelle case Guarda Sono tutti nelle case Ecco, sì Guarda, guarda, guarda Nato morto Quanto sono? 10, 9 Nato che mi sparavano Sulla bandiera La madonna troia C'è sempre il secondo Che ti guarda Ma io non devo più caricare Ho un vizio di caricare Non devo caricare Io carico Ogni volta che ci do uno Carico Non devo più caricare Anch'io Non devo più caricare Io ci do uno Carico C'è sempre il terzo Che ti viene a prendere Ho che la schiena Intanto guarda Morto per morto Muoio scarico Cominciamo l'assalto A delta 1 Che ti viene a prendere Sì, ma... eh si tirami la granata intanto ti ho inculato va che schifo si si sei il primo 16 11 15 13 41 13 27 9 22 4 22 9 23 8 24 ma noi abbiamo due o tre decenti e giacomo dai non è dormire si adesso vado boh eravamo nella squadra sfigata prima avevamo delle squadre decenti nessuno faceva la bandiera cioè è iniziata la partita che facevano la bandiera in base nostra e ci sparavano la schiera non voglio titoli sono morto cinque volte così che livello è l'arma? livello 6 set vedete se è fumato i soldi del pass eh si ah si già skin delle armi skin stronzate è incanzato non resistono ha scioppato come diranno ha scioppato ma è scioppato voglio rimetterci i soldi si non ci ha speso niente comunque tu hai già strontato skin del cazzo si non so neanche bene salvo qualcuna cioè quelle militari sono le uniche decenti le altre fanno veramente cagare quelle con le gambe robotiche l'altro con le gambe amputate con le gambe dei robot non l'ho vista capito 2042 ma però dai guarda questa qua che schifo la prima del battle pass con la maschera dorata ma roba da code si sono codato cioè hanno preso delle stronzate di code e le hanno riversate qua c'è una missione prioritaria per voi in cile gli stati uniti con le milizie locali garantiscono le scorte di acqua potabile ma come code hai visto? parte con le skin militare bellissime militari con le sacche poi esce la skin del gattino la skin della zucca adesso c'è la gattina in code cioè ma è una roba vergogna eh ma tira quella roba le fie la gattina come? si ma non è ma se io ma fammi un gioco come Fortnite e dici boh no non mettermi un cod il segnale è lontano i coglioni che coprono ci sono non riesco neanche a fare neanche a fare a uno come fanno ad essere qua? il settore alfa è il nostro ok il segnale è di fatto lontano perlomeno questo puoi sparargli il segnale è il nostro passare state in guardia perlomeno questo gli spari gli rompi in cazzo il settore delta è caduto in mano nemica nemico Buon porco dio C'era già quella della casa che mi aspettava Ma dio cane Ma perché corro Ma fermati in una casa Testa di cazzo Fermati in una casa Va c'è anche la granata Dove mi vogliono rinimare Va 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 Si fa tutti da quella casa qua Tutti Mi hanno già fatto 4 o 5 Eh lui è vivo eh Ma è stato lì ancora vivo Settore bravo in sicurezza Controlliamo gran parte dei settori Ho un brutto presente A 50 metri da me Coletta tolta EMP attivo Ucciso da dietro Due Non so come ha fatto Non ho fatto un colpo E' arrivato da dietro Ho ancora fatto un colpo io Luca Sai io non ho fatto un colpo Eh ma porco di... Ma non mi... Ma saranno cambiate veramente le armi Non gli faccio un cazzo quest'arma Cioè faccio una fatica Aiuto Sto morendo 0-3 Poi? Dai Io comincio la battita con 5-6 kill 0-6 Dai Voglio andare a 0-10 Sono in B1 Che sto cercando di nascere Guarda porco dio Ce ne sono nato Occhi aperti Mi serve copertura Cosa cazzo è? Là sopra Ma a me è mbo Porco dio Me la frego un cazzo Andavo a morire piuttosto Dio cane Soldato stile A 90 metri da me Stile micro controlla Ispetture Che davanti a te ce ne due Si Peccato che non è stato arrivato Siamo a seguire nei settori Il nemico che controlla molti Porco dio Ti ho preso eh Non gli faccio un cazzo Va 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 E' lì da te Dai vai 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 E' lì Lo vedi Oh Situazione Stanno facendo di tutto Per farci bruciare risorse Non ci siamo signore Dobbiamo guadagnare più Fermo Cominciamo Il giro Il giro di merda Comincia adesso Si 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 Ma non entrano i colpi Porco dio Abbiamo appena preso Il settore delta Bravo Uno è sotto attacco Abbiamo il controllo Della nostra parte Dei settori Ricarico Mi sono tirato Porco dio Ma madonna puttana Mi ha tirato la bomba Dentro nel punto esatto Maldio E' lì Ma che nervoso Porco dio Ma come fanno Soprire dove sono Che nervoso E che cazzo Ragazzi E' lì dalla finestra Che aspetta Va 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 Adesso vado a dormire Che meglio Ah ci va a provare un'altra mappa A vedere le armi Di come vanno Perché Boh Cosa Fatico L'ho battuto Ora spengo tutto Oh mamma è una puttana Hai visto Hai visto che ti ho fregato Gli alleati stanno catturando l'obiettivo Charlie 1 Quasi tutti i settori Sono in mano nostra Le nostre truppe controllano il settore Ego Sto ricaricando Un nemico avvistato Nord-est Arrivare Arriva Sto lanciando una granata Sto lanciando una granata No no Cazzo Gli alleati stanno incalciando a Charlie 1 Il nemico controlla il settore bravo un cazzo di drone di merda eccolo hai visto niente da dietro da dietro perché non va bene mentre ti sparano nella nebbia davanti ti devo uccidere l'altro da dietro i russi hanno il settore alfa buona fortuna capo squadra il nemico attacca uno dei nostri obiettivi controlliamo gran parte dei settori interferenza in arrivo non so ti vedono guacca x sempre bello quello vado a dio se porco dio come ma con la pistola è con la pistola ma dato un colpo con la pistola ed shot meno male che è una merda con la pistola abbiamo ancora rinforzi ma le nostre forze sono dimezzate hai visto che c'è anche il nome che ti fa vedere come stai nascendo però controllano il settore charlie i russi controllano la maggior parte dei settori ecco alla schiena vai ci sono lì sei amici c'è uno dentro la casa mi ha ucciso la schiena niente andiamo lateralmente dai siamo coglioni va buon tutto per segnala sto rasta 23 siti il settore delta è sotto il controllo alleato basta 23 siti ho fatto un salto da una casa all'altra mi ha sparato in faccia e non sapeva neanche che ero lì è arrivato saltando da una casa all'altra sparando non muore eh non muore oh merda ho sentito i passi che mi volevi venire a prenderla da dietro guarda dio porco mi ha preso da dietro l'altro arrivo già 14 7 però c'è sbilanciatissima i nostri non fanno le bandiere non ho preso un colpo non ho preso un colpo abbiamo il controllo del settore alfa figurati se non arriva uno a cagarmi il cazzo da destra oh di dietro hai visto arrivano di fianco e ti ammazzano da dietro ma forno di non ci poteva bastarda 38 8 rasta 23 siti guarda riporta già con le armi nuove volessi overpower cioè da quando è uscita la patch ieri ci stava giocando sai tipo 10 ore al giorno sono sfigato qua rasta questo cazzo non manda una partita luca buonanotte no non ho neanche guardato quant'era eh vabbè bisogna sempre far cosi quando hai il team del cazzo cosi e ah beh dai proveremo nel weekend ciao 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 Uno dei nostri obiettivi è stato attaccato. Obiettivi Charlie sotto controllo. Sentore in sicurezza. Controlliamo gran parte dei sessori. Forza amiche a Charlie 1. Abbiamo perso un alleato! Vale.